densa la puntata di ieri 29 aprile 2022 dell'isola dei famosi una puntata veramente ripeto ricca di eventi di momenti da raccontare che si sono susseguiti uno dopo l'altro vediamo nel dettaglio in questa sintesi della puntata di ieri quello che effettivamente parlando è successo baraccaduto tre persone vanno in nomination si tratta di carmen di carmen ovviamente di pietro di estefania e di blind o blind che dirsi voglia tre ripeto le persone carmen di pietro estefania e blind o blind che vanno ripeto in nomination vi ricordo che ci saranno ben due naufraghe che entreranno all'isola dei famosi e saranno mercele senga figlia di evanger e fabrizia santarelli poi accade che marco sinise personaggio che ha lavorato tanti anni fa a forum il programma di cause della mediaset è stato purtroppo eliminato ed infine ma non per questo di miglior importanza accade che licia nunes va a perdere altre voto e va a finire dritta dritta su playa sgamata vi ricordo che la prossima puntata del visore dei famosi andrà in onda tra pochi giorni precisamente lunedì 2 maggio 2022 quindi non domani non ripeto domani ma dopo domani detto ciò grazie a tutti il video termina qua iscrivetevi al canale narratore italiano commentati ciao a tutti e una buona giornata